Siamo partiti per il nostro primo raduno. Ecco, stiamo arrivando al lago di Campotosto. Dobbiamo andare in località Mascione. Siamo i primi a essere arrivati, i cani sono molto contenti, il panorama è pazzesco, aspettiamo gli altri. E mentre aspettiamo gli altri facciamo un panino con mozzarella di bufala e mettiamo il porcino. Cosa sarà mai guardando? Andiamo ad invadare. E' attento proprio, qui ci sono cavalli e mucche. Guarda là. Ecco, guarda com'è attento. Ecco, guarda com'è. Guarda come'è ancora. E' attento proprio, guarda com'è. Guarda come'è! Guarda! Guarda come'è! Guarda! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti